Alla foce del noce vidi un cannone. Era nascosto sotto ad un noce. Nei pressi si celebrava un battesimo di un bambino precoce. Buongiorno da Bologna! Oggi impariamo altre parole che si pronunciano con la O chiusa, come noce e cannone. Ma proseguiremo anche con la pronuncia della E aperta oppure chiusa nei verbi e poi la storiella su cui esercitarsi e i vostri dubbi. Essere, non essere. Qui sta il problema. Per prima cosa vediamo qual è l'addizione della O nelle parole terminanti in noce, come noce oppure precoce. Subito dopo le parole terminanti in O-N più una vocale, come ad esempio testimone oppure testimone. Infine, per la corretta pronuncia della E nei verbi che non riesci a trovare in nessun altro video, oggi ti propongo il congiuntivo imperfetto. E poi, la storia su cui puoi fare esercizio con le parole appena imparate. Si intitola Le condizioni della televisione. Guarda che quella che ti faccio, Brigadier Sacchetti, la devi considerare una dichiarazione ufficiale. Ci hai rotto i coglioni. Ci hai ufficialmente rotto i coglioni! Per non perderti nemmeno una pillola, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Guarda che è importante l'addizione, la pronuncia, la comunicazione ti serviranno nella vita e nel lavoro. Oppure vuoi parlare così? Ma certo tesoro, poi tu hai una pelle così bella, porcellana. La O chiusa si differenzia dalla O aperta per la sua pronuncia. La O chiusa si pronuncia U, la O aperta si pronuncia O. Come abbiamo visto la scorsa settimana, la O chiusa sulla tastiera del computer non c'è. Ma tu la devi saper pronunciare. Non sei una tastiera, sei un essere umano. Di solito, quando le parole terminano in OCE, quella O va pronunciata chiusa. Infatti sarebbe corretto dire croce, atroce, feroce, veloce, foce, voce, noce, toce e così via. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle parole precoce, cuoce e nuoce. Alla prima occasione lo sistemerò per sempre. Quel figlio di una vecchia... A provarci, è più veloce di un serpente. Il tuo stupido amico ha ragione. Se la parola termina in ONA, ONE, ONI e ONO, quella O va pronunciata chiusa. Dovresti infatti dire trasmissione, cannone, mattone, cotone, bottone, perdono, sono, nazione, poltrona e così via. Qui invece le eccezioni sono testimone, zona, cono e trono. Mi aiutassi a conquistare il trono di spade, ora aiutami a mantenere il potere. Eccoci finalmente alla E nei verbi. Vatti a vedere anche le puntate precedenti perché puoi scoprire se si dice potremmo oppure potremmo. Oggi invece scopriremo questo modo, questo tempo e questa ricorrenza. Il congiuntivo imperfetto è meraviglioso perché tutte le E presenti all'interno delle coniugazioni chiudono sempre. Quindi in pratica non c'è nulla di cui ricordarsi. Ecco un esempio. Prendiamo il verbo fare ma potremmo prendere un verbo qualsiasi, tanto è sempre chiusa. Che io facessi, che tu facessi, che egli facesse, che noi facessimo, che voi faceste, che essi facessero. Ed ora un pensiero da me composto che poi ti trascrivo per darti modo di fare esercizio sulle parole che hai appena imparato. Ah, se si potesse, se si potesse mettere finalmente la parola fine a quell'orribile trasmissione. Quella della tizia con i capelli che sembrano di cotone e con quella voce atroce. Eppure tutta la nazione alle tre in punto preme il bottone sul televisore e, veloce come il vento, va a sedersi in poltrona. La conduttrice è feroce, ad alta o a bassa voce e riesce a trasportarti come fosse un fiume in piena, il toce, ad esempio, verso la foce. E la foce non è un posto confortevole per te. Ricordo che una volta, mattone su mattone, è stata in grado di costruire, partendo da un presunto testimone vicino al trono, amico del re, e un'infamante accusa nei confronti di quel genio precoce, la cui unica colpa era stata di non andare all'orribile trasmissione, non perché non volesse, semplicemente non era in zona. Ed ora, come colpi di cannone, altri seguaci della mediocrità che sfruttano il cono d'ombra della ragione, si sono messi a fare trasmissioni. Sono persone che non meritano perdono. Quella gente nuoce al pensiero, ti cuoce il cervello, con la sua finta allegria e la poca preparazione. Se mettesse più tempo nel curare la propria formazione, sarebbe molto meglio. Da parte mia, io mi metterò sotto questo noce, senza televisione, senza tensione. Forse non gioverà alla mia condizione, ma almeno non perderò il mio tempo guardando orribili trasmissioni. Come al solito, carico la storiella sul sito web con la giusta formatazione. Lì troverai tutte le parole che hai imparato oggi grazie a questo video e potrai leggerla. Leggila più volte ad alta voce per esercitarti. Il link al sito è nel primo commento. Ecco alcune vostre richieste e le parole che, seppure non comprese nelle regole, bisogna sapere pronunciare. Ebbene, con la E aperta, si dice preme e non preme. Tra l'altro, il verbo premere fa parte di quelle parole sdrucciole che chiedono la E aperta. Ricordi questo video? Poi si dice posto e non posto, e sonno e non sanno. Sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa? A sinistra! Ce l'ho quasi fatta? Sono quasi disintossicato completamente dal trash di The Lady. Per la terza settimana di fila vado a prendere una parola sul dizionario in alto. A sinistra! E ti leggo il suo significato più che altro, la dizione giusta. Campagnolo. La tonica è la O e va pronunciata aperta. La prossima settimana andremo avanti con le regole della O chiusa, che ormai sono quasi finite, ma soprattutto continueremo con le regole della E nei verbi. Nel frattempo, se hai domande, qualsiasi domanda, fammele commentando il video qui sotto o su qualsiasi canale social. Come al solito ti invito a guardare gli altri video sul canale, a mettere un bel like a questo e agli altri video, ma soprattutto ad iscriverti e ad attivare la campanellina. Nei pressi si celebrava il battesimo di un bambino precoce. Battesimo.